Il famoso Herx GP sarà sostenuto questo settembre nel Reino Unico. T-Pro in cooperazione con Motorex ha la nuova serie RC Cleaner. Kanai presenta alcune notizie, probabilmente Spring. Nicola Rodríguez, da Francia, interviene con il Team Hongnor per la gt-racing, elettrico e nitro. Il nuovo Muggen MTC2 Touring Car viene con alcuni buoni prodotti. Avid RC ha alcune belle parti carboni per il RC8 associato. Nuovo da BT Design, ancora un corpo di visione, questa volta per l'Agama A319. Probabilmente un nuovo 1 piece engine mount da Fastrace, probabilmente per S-Works e magari altre brand. A presto! 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 A presto!